Musica Sono Nazareno Bolzon, docente di italiano e storia presso questo istituto, l'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto. Il nostro istituto è un istituto professionale che offre agli studenti una formazione tecnico-professionale ma anche una formazione umana. Abbiamo nei nostri indirizzi gli indirizzi secondo il nuovo ordinamento previsto dalla riforma di manutenzione, assistenza tecnica e di produzione industriale e artigianali e gli indirizzi della formazione professionale, operatori elettrico, meccanico, termico ed elettronico. Il bacino di utenza del nostro istituto è un bacino molto ampio. Una caratteristica fondamentale dell'istituto è la collaborazione con il territorio, in particolare con le aziende. Siamo nella sala adibita a ristoro frutto di una collaborazione. Questa collaborazione ha portato anche negli anni e anche nell'anno in corso a realizzare progetti formativi di integrazione rispetto al curriculum scolastico. Quindi progetti post-diploma sia legati al Fondo Sociale Europeo sia legati al polo formativo meccanica e legno di cui il nostro istituto è capofila della provincia di Treviso. Sono Stocco Regina, docente di scienze. La nostra scuola ha una tradizione di più di 50 anni radicata nel territorio, ma si è sempre tenuta aggiornata. Da 4 anni i nostri ragazzi vengono registrati con un cartellino elettronico in entrata e in uscita dalla scuola. Questo permette ai genitori di avere in tempo reale la conferma della presenza a scuola degli studenti. Nello stesso tempo i docenti registrano in formato web i loro voti e le loro lezioni, dando un'ulteriore possibilità alle famiglie di essere aggiornati su quello che capita nell'istituto. Il nostro istituto si è dotato di tre lavagne multimediali che vengono utilizzate in classe per fare lezioni interattive e anche molto più accattivanti nei confronti dei nostri ragazzi. In questi anni la collaborazione con le aziende ha anche portato alla realizzazione di alcuni manufatti molto particolari che sono diventati simbolo nel nostro istituto. Abbiamo nel cortile una meridiana costruita, progettata dai ragazzi dell'istituto e costruita con la collaborazione di alcune aziende. Abbiamo ricostruito l'orologio a pendolo progettato da Galileo. Sono Vittoria Bertolini, insegno matematica in questo istituto e mi occupo di progetti per il benessere degli studenti, in particolare della patente etica, che è un progetto che è nato per valorizzare i comportamenti positivi degli allievi, sia a scuola, quindi la loro partecipazione al dialogo educativo, il rispetto per la persona, la puntualità, eccetera, ma anche fuori dell'istituto e quindi per esempio la partecipazione regolare a un'associazione di volontariato oppure a una società sportiva o ad una band musicale. La patente etica si concretizza con una scheda di valutazione che viene data trimestralmente allo studente insieme alla pagella. Il punteggio che ogni allievo raggiunge con la patente etica viene poi pubblicato in una classifica, sia a livello di classe, quindi tra tutti gli allievi di una stessa classe, ma anche tra tutti gli allievi dell'istituto. In particolare c'è anche una classifica tra tutte le classi per decidere chi è la classe migliore che avrà un premio finale, un viaggio studio a Dobbiaco. Il viaggio studio in Alto Adige è un'opportunità didattica importante pensata per dare risalto alla condivisione di esperienze e alla collaborazione, al rispetto dell'ambiente e del territorio. La patente etica è uno strumento che può essere di aiuto agli allievi per autoosservarsi, per migliorare i livelli della propria conoscenza e della propria crescita, per capire dove si può lavorare. Quindi è utile per lo studente, ma è utile anche per il docente, perché per esercitare la propria azione valutativa con una maggiore equità. Strettamente legato alla patente etica è anche il progetto vita e lavoro, che consiste in periodi di una o più settimane di stagio formativi presso alcune cooperative sociali del territorio. Grazie a tutti!